allora acquisti da acqua no risparmio casa già iniziamo bene allora sono quattro sacchetti che vedete qua più questo che adesso vi faccio vedere allora iniziamo prima allora non dai sacchetti ma da questo allora ho preso questo il kit con la scopa paletta pensavo c'è alla fine e piccolino pensavo che non lo so però vabbè spero che è utile che mi serviva l'ho vista in promozione a tre tre ore qualcosa poi candeggina questo fa dell'accia mi serviva la candeggina ho rifatto rifornimento perché non aveva più niente candeggina profumata poi ho preso questo detersivo che era in promozione a quattro euro mi sembra lo volevo provare general color l'ho preso tutti diversi la bacinella questa che mi serve mi serve e poi ho preso coccolino questa volta volevo provare questo volevo cambiare l'ho preso coccolino spero che buono in teoria sì sia questo che questo qua due o forse di più guarda perché comunque per adesso questi gli altri sono tutti dentro al sacchetto poi ho preso il leodorante mamma mia che puzza forte comunque questo qua poi questo sacchetto ho preso l'iso in forma per il bagno calcare ostinato non so quanto ne ho presi comunque due per adesso due questo qua questo è per la cucina sgrassatore al limone che mi sono trovata bene buono la scopa che mi si è rotta mi si è rovinata non ho preso una anzi non ho trovata solo una perché sennò ne prendevo altri due ma non c'era più questo è un bacio per il palchè ho cambiato voglio provare questo perché forse questo va bene per il palchè e allora ho detto boh è leggero proviamo questo poi questa la cera per il palchè anche questa per provarla ho preso vado veloce perché sono tante cose e poi non si sa mai se mi si blocca di nuovo il video per i gigapieni quindi deodorante che ha preso lui questo qua ho preso questi qua che sono quelli che sono lavabili in lavatrice il mocio per il pavimento per tipo le piastrelle ne ho presi due mi sa ah no due di questi e gli altri un colore diverso uno verde così mi piaceva e l'altro verde poi sacchetti differenziata l'ho preso un po' sono questi qui poi c'è questo che è quello nuovo appena fatto quello automatico diffusore automatico infatti l'ho preso per provare a vedere com'è una novità adesso proviamo e vediamo se è buono le ricariche di quello più piccolino a 3 euro mi sembra l'uno questi qua della glade quelli piccolini ho preso due e un altro così poi altri deodoranti che ha preso lui poi altri sacchetti altri sacchetti questo bagnoschiuma che ormai è preferito e mi piace allora ho preso questo qua a lime comunque questo ne ho presi due allora uno muschio bianco o due se non sbaglio due lime e uno muschio bianco se non sbaglio adesso può essere così no questo è quello classico uno classico e un muschio bianco che pensavo che avevo preso uguale vabbè chi se ne frega un altro deodorante sì il mio gatto che rompe le palle poi spugna questa qui altro sacchetto il gatto che scatta nei maroni differenziata un altro sacchetto poi non lo so se c'è ancora qualcos'altro a parte il gatto vai gacchino 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 comunque questo poi altro sacchetto bello stavo dicendo questo è fatto così diffusore però sembra bello sì è il mio gatto che mi ha saltato addosso non so se si è visto comunque mi sono accorta dopo guanti in lattice poi ho preso questo colorante per i capelli che ovviamente vi spoilerò ma questo video non so credo che lo vedete dopo quando io mi sono fatto il colore questo qua quest'anno dorato ho preso volevo provare a vedere come veniva della garnier che dovrebbe essere quello allora c'è il colorante il balsamo e la crema per cui dovrebbe risultare un po' più forte almeno spero non lo so ho voluto provare questo ho detto lo prendo invece di andare dal parrucchiere comunque questo fui 8 euro in promozione altri guanti questi qua che io li uso per il bagno un'altra spugno questo verde perché se no ci andiamo in confusione ho preso l'acetone per le unghie perché non ce l'avevo più l'ho quasi finito mi servivo per lo smalto ne ho presi 2 2 poi sale per la lavastoviglie ne ho presi 5 credo 5 scusate ma non ho il cavalletto perché non ce lo voglio allora lo faccio così anche se è un po' traballante poi c'è la compagnia qua vicino comunque ha un altro 5 dovrebbero essere questo è per ricaricare il deodorante questo qua quello che avete visto prima però c'è questo altre ricaricate diverse ne ho presi 3 forse 3 o 4 fatti questo è un altro ho le pastiglie della lavastoviglie ogni volta sbaglio a dire questo per il bagno bicarbonato molti superfici nastro lindo sinceramente lo volevo prendere per provare a vedere se va bene e l'ho provato a prendere poi c'è altro sale non lo so quante le ho prese ma ho fatto la scorta perché mi serviva poi ma credo che c'è questo è l'ultimo questo è per vetri scusatelo in microfibra spero che hanno presi due uno rosa che mi piaceva e uno verde fatti così spero che vanno bene sì c'è la mia aiutante questa qua credo che chiudo resta pure poi vediamo questo che è pesante questo spero che non è lo scontrino no questo non c'entra niente allora per pulire la lavastoviglia mi ho preso un bel po' ho preso questi due poi ho preso questo brillantante un altro brillantante altro brillantante poi altro di prima poi altro brillantante le spugnate queste qua che mi servono ogni tanto le uso per le padelle quando si non riesce a tirarle bianco che parole a pulirle questo per pulire la lavastoviglia questo al limone buonissimo io li contro sempre non so dove deve andare il gattino per cui un altro uguale altro brillantante ho fatto la scorta perché di solito faccio così questo è per il parquet ho voluto provare anche questo qua spero che è buono due ne ho presi mi sa uno così per provare sempre sul parquet e due che non so dove è l'altro comunque un altro di questo poi il persivo o meno bianco questo ah no questa è candeggina delicata poi ah un altro questo qua che dicevo prima questa candeggina no questa no non è questa un candeggina questo è acce gentile detersivo mi leggo nel nome poi poi questa è candeggina delicata volevo provarla questo sempre l'ison from questo per il la cucina l'ho voluto prendere poi ho preso questo il quasar igienizzante case animali per provarlo sempre per la cucina perché di solito i gatti appunto vanno in cucina perché per sicurezza l'ho preso ma ci sono i gatti pastiglie lavastoviglie di solito noi usiamo sempre la lavastoviglie perché siamo in due però non la usiamo una volta cioè al massimo una volta al giorno dipende poi ho preso questi che mi servivano perché certi si sono anche rovinati per cui certi li butto comunque ho preso questi qua che mi trovo bene per pulire poi se volete un video dove pulisco la casa fatemelo sapere qui sotto per finire i vecchi essimi allora uno ha l'ammorbidente coccolino questo qua ho preso dovrebbe essere buono poi sempre un mino bianco questo qua colore e poi questi qua che sono tutte e tre diversi uno universale questo qua un altro marsiglia sì e un altro freschezza di ingiene questo per provarlo era tutto in promozione erano tutti scontati adesso vi faccio vedere qua allora oltre il casino che vedete sommersa di prodotti ovunque perché giustamente volevo registrare in sala non è stata una bella idea ma tanto alla fine devo appunto devo mettere a posto allora totale 223 euro però avevo lo sconto di 5 euro di 20 per cui 218 74 direi che i prezzi sono quasi questi sono 5 euro 1 euro 29 l'offerta che risale tutti questi solo che non me li ricordo tutti ora che ve li elenco tutti ci mettiamo l'anno prossimo poi il centurino enorme come vedete risparmio casa e poi c'era questo che adesso fanno i safari amici con il viaggio in Kenya in poche parole puoi vincere fai la collezione di pupazzi c'è la giraffa il rinoceronte il popotamo e lì nel papagallino collezione pupazzi vinci un viaggio in Kenya dal 2 settembre al 24 un bollino ogni 10 euro di spesa iniziativa per se sono cadita allora 12 bollini un peluche 3 euro 50 alla faccia di sto cavolo questi non so quanti bollini sono però credo che uno forse riesco a prenderlo solo che il problema è che 3 ore 50 uno di questo comunque niente questo c'è l'offerta dei pupazzi con i bollini io ho detto vabbè dammi Massimo lo prendo pensavo che era gratis che non spendi 3 euro e 50 per appunto e invece alla fine altro gattino qua ci sono spassi tutti gattini e niente questa è stata la spesa l'acquisto di risparmio casa e basta detto questo io vado a mettere a posto perché ho fatto un casino madonna e ci vediamo al prossimo video spero che questo video vi sia piaciuto fatemelo sapere se anche voi comprate da risparmio casa comunque c'erano tantissime promozioni perché alla fine vado lo scontrino gli sconti erano praticamente tutti scontati in più di anche i punti adesso non so quanti punti ho bollini 21 saldo punti 437 prima avevo 1000 passapunti invece 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 alla fine niente no saldo attuale comunque vabbè 1000 punti sprecati alla fine 5 euro di sconto ci hanno mai fatto sì alla fine c'è 5 euro non è che sia però vabbè è un punto ogni 55 lasciamo perdere e niente al prossimo video che meglio intanto metti i punti lì vediamo se uno riesce a prenderli che così almeno vero gattini piccolini ciao va bene al prossimo video ciao ciao ciao